Sì, d'accordo, a domani. A domani. Ciao. Ah, Joël, hai visto Alfonso? Non lo sai, non vuole uscire. Si è chiuso a chiave in camera e... Ma l'hai visto? No, ne ho. Comunque, Severine, è... Qualcuno può prestarmi 10.000 lire per andare a puttane? Su, Alfonso, vieni. Ora te ne torni in camera. Ti rileggi il copione e ti metti a lavorare un po' e poi cerchi di dormire. Domani si lavora. Ora, il lavoro è più importante. Non fare il cretino, Alfonso. Sei un bravissimo attore, il lavoro va a gonfie vele. Lo so, c'è la vita privata, ma la vita privata zoppica per tutti quanti. I film sono più armoniosi della vita, Alfonso. Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti. I film vanno avanti come i treni, capisci? Come i treni nella notte. La gente come te, come me, lo sai bene, siamo fatti per essere felici nel nostro lavoro del cinema. Ciao, Alfonso. Conto su di te. Sì, ciao. Alfonso. Grazie. 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 Grazie.